Qual è la parola che ha a che fare con me e con tutti quelli che hanno un sogno? Ovviamente coltivare i propri sogni è la cosa più importante, fare dei sacrifici, rinunciare per diventare quello che si vuole è la cosa più importante e anche più difficile ovviamente della vita. Per questo che dico ai ragazzi di sperare, di sperare in meglio sotto qualsiasi punto di vista. Grazie